FIMA REGULAR WEIGHT CLASS TITLE 280 KG Arbitra Marco Santi chiamiamo all'angolo bianco il BUDO CLAN Maria Rosaria Faruolo 53 Kg punto 8 Fatima Borba 51 Kg Martino Esposito 55 Kg Alessia Bodano 50 Kg Emma Taricaterra 52 Kg il loro maestro è Dario Macci all'angolo vero vieniamo il Team Maldraig Elisa Cilino 50 Kg Katerina Bebano 54 Kg Giulia Angiolini c'è la partita 15 Kg 15 Kg il Cavalito 50 Kg 100 Kg Marina Sbatella 27 Kg 8 Kg i loro maestri sono Pedrego Dizzi e Luca Carasso Le prime a compagnie saranno Maria Rosalia Parolo e Denisa Cimino in una volta su Giorgio Minuti. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.